poi uno dei sette angeli dalle sette coppe s'avvicinò a me e mi disse ursu voglio mostrarti il castigo della grande meretrice che sta assisa su acque copiose con essa i re della terra hanno fornicato e col vino della sua prostituzione si sono inebriati gli abitanti della terra mi trasportò quindi in spirito nel deserto dove vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta piena di numi blasfemi con sette teste e dieci corna la donna era vestita di purpura e di scarlatto tutta adorna di gioielli d'oro pietre preziose e perle teneva in mano una coppa d'oro ricolma di abominazioni e impurità della sua prostituzione sulla fronte portava scritto un nome simbolico la grande babilonia la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra e potei scorgere come la donna fosse ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di gesù al vederla io fui preso da grande meraviglia ma l'angelo mi disse perché ti meravigli ora ti spiego il mistero della donna e della bestia dalle sette teste e dieci corna sulla quale ella siede la bestia che hai vista era e non è più sta per risalire dall'abisso per poi andarsene in perdizione al vedere la bestia che era e non è più e che riapparirà rimarranno stupiti gli abitanti della terra il cui nome non si trova scritto sin dall'origine del mondo sul libro della vita qui occorre la mente che ha sapienza le sette teste sono sette colli su cui è adagiata la donna sono anche sette re dei quali i primi cinque sono passati uno c'è e l'altro non è venuto ancora ma quando apparirà rimarrà per poco tempo la bestia che era e non è più è l'ottavo anch'essa è del numero dei sette ed è destinata alla perdizione le corna che hai viste sono dieci re i quali non hanno ricevuto ancora un regno riceveranno la regalità insieme alla bestia per una sola ora di comune accordo trasmetteranno la loro potenza e autorità alla bestia faranno guerra all'agnello ma l'agnello li sconfiggerà poiché egli è il signore dei signori il re dei re e quelli con lui sono i chiamati gli eletti e i fedeli e aggiunse le acque su cui hai visto assisa la meretrice sono popoli folle nazioni e lingue le dieci corna che hai visto e la bestia prenderanno in odio la meretrice la renderanno desolata e nuda ne divoreranno le carni e la daranno alle fiamme dio infatti guiderà le loro menti a portare a compimento il suo piano col far trasmettere di comune accordo alla bestia la loro potestà regale in modo che si compiano le parole di dio la donna che hai vista è la grande città che esercita il suo potere regale sui re della terra